Torna Winter Synergy Festival ad Atri nelle date del 10 ed 11 dicembre, quindi a ridosso delle feste natalizie. Tornano questi due grandi eventi con tanti ospiti per quanto riguarda la Kermesse musicale nella città ducale. Volevo innanzitutto ringraziare chi in questo momento mi dà l'opportunità di raccontare quello che accadrà durante la settimana più lunga qui ad Atri che stiamo per vivere, che è la Notte dei Faugni, che quest'anno concluderemo noi con due grandi eventi al teatro, il 10 e l'11. Il 10 avremo i luta page che canteranno e reinterpretano i pezzi dello storico cantautore genovese con un arrangiamento veramente da sogno, fatto all'interno del nostro teatro che è la bomboniera più bella, il salotto della città ducale. Il giorno dopo, ricordo che abbiamo messo l'ingresso gratuito fino ai 16 anni, ci sarà una nigeriana, un'afroamericana, in realtà la grande Gengeresa, una donna esplosiva che ci farà ballare con il suo ritmo in blues, soul, funky. Quella sera avremo l'opportunità di dare un riconoscimento al regista Maurizio Forcella e a Setac Pomponi, grande cantautore abruzzese. Lì sveleremo anche, diciamo, ci sarà una sorpresa per tutti gli ospiti, un riconoscimento per il loro lavoro e per l'attaccamento al nostro territorio, che è un po' la filosofia che riguarda anche noi, ecco, diciamo.